Questo è da specificare perché un microfono di un telefono è progettato per poter parlare a 10 cm dalla bocca. Un telefono posizionato già su questo tavolino a una distanza di un metro o due metri perde notevolmente la qualità, diventa molto scadente. Ripeto, poi possiamo avere la lista delle chiamate, per esempio tutte le chiamate vengono effettuate o ricevute. La localizzazione satellitare, perché se il telefono ha un'antenna integrata, GPS, possiamo sapere in quel momento dove è posizionato quel telefono, perciò la persona dove si trova in quell'istante, o tramite longitudine e latitudine o tramite la cosiddetta cella. Diciamo che le funzionalità sono molteplici, sono circa 15 per un software full, ok? Proprio il massimo. Se no, diciamo che c'è un software in commercio che ti permettono solo di ricevere gli sms e costano pochissimo. Mai accettare telefonini in regalo. Sì, questo è il classico proprio, viene regalato appunto dal convivente, dal genitore, eccetera. Amore, vieni questo bel telefonino. Guarda il tuo nuovo iPhone. Guarda l'iPhone nuovo. Poi ecco, esistono varie strumentazioni, tipo inibitori di segnale. Se io voglio star tranquillo che questo telefono in questo momento non viene ascoltato o non trasmette i dati, inibisco il segnale e sto tranquillo. O altrimenti abbiamo questo apparecchietto piccolissimo che è un GSM Box, momento in cui io posiziono il telefono sull'apparecchio e viene chiamato in quel caso, perciò viene attivata la funzione Spy Phone, l'apparecchio inibisce il microfono del cellulare e in più me lo segnala, perciò viene inibito tramite un generatore rumore bianco che possiamo ascoltare in questo caso. Questo sì, un piccolissimo mi va a inibire. Adesso facciamo una piccola prova. Si chiama Magic Box quello? Come? Come si chiama quell'oggetto lì che inibisce? GSM Box. GSM Box. Eccolo qui, adesso è entrato in funzione. Ci sono due led che mi indicano che il telefono sta andando in trasmissione e inoltre riproduce questo suono che magari lì a distanza non si sente bene. Quest'altro apparecchio è anche entrato in funzione o altrimenti... Insomma, questo telefono l'abbiamo beccato subito. Sì, 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 sì. E se adesso attivo il cosiddetto jammer vado a inibire la linea. Praticamente mi butta giù proprio la linea. C'è da dire che i jammer sono delle apparecchiature che per esempio io personalmente vendo solamente a enti governativi, perché abbiamo una licenza rilasciata dalla prefettura solamente per la vendita alle forze armate italiane e straniere, ma su internet, insomma, bene o male si riescono a reperire tranquillamente. Non è possibile venderli perché appunto inibiscono la linea telefonica, perciò in mano a qualche persona che ha brutte intenzioni, cattive intenzioni, può inibire gli allarmi delle abitazioni o di negozi. E ci sono già talmente potenti da poter buttare giù anche situazioni di questo tipo? Sì, diciamo che, ecco, questo per esempio, non so se lo riesce a inquadrare, il cameraman, questa è una parata abbastanza potente e ha la possibilità, ma anche questo qui piccolino. Inibili voglio azzerare le comunicazioni GSM di tutti i provider contemporaneamente, per cui tutti i telefonini diventano non utilizzabili sul campo. Cioè, muti. Muti, per cui tutti gli allarmi che hanno la famosa chiamata su GSM o su linea, infatti, diciamo, gli allarmi c'hanno sia su linea che su GSM, però quella GSM viene inibita, quella taglia i cavi di quella telefonica e l'allarme diventa inutile. Oppure se devi fare un omicidio, un reato o qualcosa, col jammer impedisce alla persona di poter chiamare aiuto, certo. Sono estremamente potenti. Questi strumenti si trovano in commercio, tranquillamente. Si trovano in commercio. Tranquillamente, ormai con internet è tutto più semplice. Si possono acquistare online all'estero, anche aziende in Italia li vengono. Un pacchetto bello, bello. Sì, sì. Beh, sono tecnologie... Ma anche gli spyphone, tutti i software. Sì, per ricordare, cioè, il discorso spyphone, alcuni nascono proprio con questo tipo di finalità, quindi. Sì, sì. Oppure possiamo trasformare qualunque telefono in uno spyphone? No, devono avere delle caratteristiche particolari, tipo, devono avere un sistema operativo particolare, non tutti i telefoni. Chi ha il sistema operativo proprietario, che non è Symbian, non può usufruire di quel... Di quel tipo di utilizzo. Sì, di quel tipo di utilizzo. Però, diciamo, ormai l'80% del mercato è tutto Symbian. E Symbian si presta a questo tipo di utilizzo? Come no? Certo. Sicuramente sì. E diciamo che i Nokia sono quelli più venduti. Perciò adesso hanno iniziato a entrare sul mercato anche i Blackberry, ma anche lì non c'è problema. Si può installare l'iPhone. L'iPhone è un po' più complicato, perché l'iPhone ha bisogno di aggiornamenti continui, e infatti non è, diciamo, molto venduto, in quanto una volta installato, basta che poi si fa un piccolo aggiornamento, o perde... No, non funziona più. Perciò è come se venisse formattato il telefono. Adesso il software viene annullato. Ma ci stanno studiando sopra, come tutti i software, hanno i loro bug, e perciò ci sono dei problemi che poi mano a mano vengono risolti. Quindi tra questi, quello più difficile da trasformare in SpyPhone è al momento l'iPhone? Una domanda sulla rilevazione degli SpyPhone da parte dell'utente. Cioè, se c'è qualche strumento che al di là dell'analisi forense del telefonino... C'è il... Ok, il GSM Box che è stato proprio progettato per quello scopo. Naturalmente lui individua solamente quando il telefono entra in ambientale, ovviamente quando diventa un microfono spia. E se no, altrimenti, strumentazione, abbiamo visto prima che come va in trasmissione un telefono, e per noi è naturale che se io... L'insamuta delle nostre chiamate. È naturale che se io sto facendo una conversazione e qualcuno mi intercetta, entrando in audioconferenza, rimane un po' più tutto difficile, perché con le strumenti... Quello trasmette... Perciò non è che io con la strumentazione... Bravo, io anche se ho la strumentazione, la telefonata la sto facendo. Perciò si dovrebbe fare il dump del telefonino e fare analisi forense dei processi che stanno a bordo del telefonino. Quello che diciamo facciamo anche noi, perché anche noi distribuiamo i SpyPhone soprattutto alle forze dell'ordine e sappiamo bene o male sul mercato che tipologia di software è, come viene rinominato, perciò basta entrare appunto nel sistema fisico del telefono e cercarlo. Porta via un po' di tempo, però ecco è un'analisi forense che si fa, perciò nel giro di una giornata riesci a scoprire se nel sistema operativo di quel telefono è stato installato un file, però se non sappiamo che cosa dobbiamo cercare mi rimane un po' difficile. Quindi per cui chi fa queste... promette, diciamo, questi tipi di servizi deve essere anche uno che vende quel prodotto, perché altrimenti andare appunto presso un'azienda che dice ok ti faccio un'analisi forense sul telefono per rilevare se hai uno SpyPhone e poi non commercializza quel prodotto, è molto, ma molto difficile che riesca a individuarlo. Sì, 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 perché bisogna conoscere che tipo di software cercare e com'è rinominato, perché è naturale che sul telefono si nascondono, si fanno vedere. Si nascondono in determinati parti del sistema operativo del telefono, è un lavoro... Tipo virus. Sì, bravo, è un troia, insomma. Sì, ma, del settore, che tipo di diffusione hanno oggi, ovviamente fuori dal circuito giudiziario, questo tipo di software? Quanti telefoni, secondo le stime di due esperti come voi, oggi sono SpyPhone, ma senza che ovviamente chi li utilizza ne sia consapevole? Ma noi riceviamo di media al giorno circa 4-5 richieste, insomma, non è che siamo... Di privati cittadini? Di privati cittadini, parliamo sempre di cittadini. Il 60-70% dei casi non è fattibile in quanto il telefono non si pressa, e perciò... Quindi che fanno? Vi portano dei telefoni? Allora, noi vendiamo il software, perché? Perché la legge vieta l'installazione. Certo. Ok? E la legge ti permette la vendita del software, ma non ti permette l'installazione. Ok. Praticamente l'installazione la farà a carico del cliente, a cui viene dato un libricino con delle istruzioni, con i vari screenshot, perciò semplicissimi da seguire, e il cliente ha i suoi vari passaggi con le istruzioni, se lo installa, è comodamente seduto a casa e poi procede all'utilizzo del prodotto. Porca miseria. Sì, ma ci sono moltissime aziende in Italia che vendono i telefoni finiti anche. Già proprio pronti? Sì, sì, già pronti. Ah, la vieni! Sì, sì, sì. Buon compleanno. Noi registriamo il periodo natalizio. Mannaggia. Il periodo natalizio è il massimo delle vendite. Porca miseria. Abbiamo venduto fino al 24 sera, cioè abbiamo avuto delle richieste, anzi specialmente gli ultimi, perché poi come tutte le cose all'ultimo minuto pensano di fare questi acquisti e perciò il 22-23 dicembre c'è il picco massimo. Ma si dice la prima cosa. Non accetterò mai più un telefonino regalo neanche sotto tortura. Eh, ma vengono utilizzati molto anche in situazioni di spionaggio industriale o per controllare i dipendenti. non è concentrato solo o visto solamente No, no, certo, certo. per un discorso adulterio, no? Però è terribilmente più diffuso di quanto... Moltissimo vengono utilizzati per controllo sui minori. Ormai chi è che non ha 13 anni hanno un telefono cellulare. Anche molto prima. Anche molto prima. Perciò diciamo che se vengono utilizzati bene è perché molte persone lo utilizzano anche per situazioni, appunto, il controllo sul minore, no? C'è una patria che sta, perciò e voglio controllare mio figlio o mia figlia perché vedo che magari ha preso una strada un po' particolare o conoscenza, amicizie particolari. Indubbiamente, ripeto, parlare con voi ogni volta mi genera una certa ansia che spero di non trasferire al telespettatore. Per stasera abbiamo finito. Io naturalmente ringrazio Francesco Polimeni del sito spiare.com e c'è anche una community molto interessante a cui peraltro sono iscritta anch'io che si chiama iospio.org dove è possibile trovare tutte queste informazioni scambiare opinioni con esperti del settore tutti molto disponibili quindi avere tutto quello che vi serve per sapere se siete spiati o se in qualche modo avete curiosità in tutto quello che è il mondo diciamo delle tecnologie delle spy tech, no? Se vogliamo. E ringrazio naturalmente Massimilo Boccardi esperti di sicurezza informatica e di indagini informatiche e CTU del Tribunale di Roma per essere stato qui con noi questa sera. Direi che abbiamo fatto una puntata molto ricca di contributi concreti e vi do appuntamento la settimana prossima con una nuova e interessante puntata della scena del crimine. Buona serata.